Xbox sa che ciascuno ha le sue esigenze, quindi ha una serie di abbonamenti Game Pass personalizzati, ognuno per un tipo di giocatore. E recentemente c'è stato anche un aggiornamento alla gamma di servizi, quindi scopriamo subito qual è il piano più adatto a voi. Se giocate esclusivamente su console, il primo abbonamento da provare è Xbox Game Pass Core. Se eravate già abbonati a Xbox Live Gold, questo è il piano più semplice da sottoscrivere. Vi dà accesso a una vasta gamma di offerte, sconti speciali e a tutta l'esperienza multigiocatore che possiate desiderare, a un prezzo davvero conveniente. Ovviamente Game Pass Core è un grosso miglioramento rispetto al vecchio Live Gold, perché vi dà accesso a una vasta selezione di titoli su Game Pass. Al momento su Core sono disponibili oltre 40 titoli, tra cui grandi successi come Gears 5, Grounded e Control Ultimate Edition. E ricordate, caso mai vi ritrovaste temporaneamente sprovvisti di abbonamenti a Game Pass, su Xbox i giochi free-to-play sono davvero gratuiti, quindi potete divertirvi con titoli del calibro di Destiny 2, Warzone, Rocket League e Fortnite senza spendere un centesimo. Insomma, se giocate solo su console e volete provare Game Pass, oppure se la vostra priorità è accumulare ore col vostro titolo multigiocatore preferito, Game Pass Core potrebbe essere l'abbonamento che fa per voi. Ed è anche molto conveniente, costa solo 6,99€ al mese. Se giocate solo su console ma cercate qualcosa di più del Core, potete provare Xbox Game Pass standard. Questo abbonamento include tutti i vantaggi del Core, come l'accesso al multigiocatore online e tutti i fantastici sconti. In più potete usufruire dell'intera libreria Game Pass. Ciò significa avere più di 100 titoli a portata di mano, dai classici della prima Xbox e di Xbox 360 ai nuovissimi blockbuster come Hellblade 2 e Diablo 4. L'unica cosa che non potete ottenere con Game Pass standard è l'accesso immediato alle nuove uscite al Day One, anche se prima o poi diventeranno disponibili anche per quest'abbonamento. Quindi se volete assolutamente essere fra i primi a giocare a Black Ops 6, Evaud o a qualsiasi altro stupendo titolo che sbarcherà direttamente su Game Pass, prendete in considerazione Game Pass Ultimate, di cui parleremo tra poco. Qual è la prossima uscita al Day One di cui volete sapere di più? Fatecelo sapere nei commenti! Se non vi dispiace aspettare un po' di più per le nuove uscite, potete sottoscrivere un abbonamento Game Pass standard a soli 12 euro e 99 centesimi al mese. Al giorno d'oggi alcune persone preferiscono giocare la maggior parte o addirittura tutti i loro titoli Xbox su PC piuttosto che su console. Forse preferite usare mouse e tastiera, oppure non volete litigare per usare il televisore. Ognuno ha le sue ragioni e sono tutte assolutamente valide. Se giocate prevalentemente su PC, potrebbe interessarvi PC Game Pass. Questo abbonamento vi fa cedere all'intera libreria di giochi per PC su Game Pass, inclusi i classici cliccabili come Age of Empires, Age of Mythology, Cities Skylines 2 ed entrambi i Frostpunk, oltre a garantirvi l'accesso al Day One e a tutte le nuove uscite su PC Game Pass. Come se non bastasse, è incluso anche il catalogo EA Play, con dei classici cliccabili come Command & Conquer, ma anche titoli AAA moderni come la serie Star Wars Jedi e Immortals of Avium. Insomma, non rimarrete mai a corto di titoli fantastici con cui giocare. E poi c'è Riot Games. Se volete giocare a Valorant o a League of Legends, l'abbonamento a PC Game Pass vi permette di sbloccare l'intera rosa di personaggi giocabili. Ovviamente potrete anche usufruire di tutte le offerte e gli sconti riservati agli abbonati. Quindi se volete continuare a giocare su PC, questa è sicuramente la soluzione ideale per voi e costa solo 11 euro e 99 centesimi al mese. Ecco il boss finale degli abbonamenti a Game Pass, quello grosso, il pacchetto completo. Xbox Game Pass Ultimate. L'abbonamento a Ultimate vi permette di fare tutto, cioè tutto ciò che è possibile fare con i giochi Xbox. Non fatevi venire idee strane. Avrete l'accesso completo all'intero catalogo Game Pass e a tutte le nuove uscite al Day One e a tutti i vantaggi di Riot Games e a tutte le offerte di EA Play. Con questo abbonamento non solo avrete a disposizione una montagna di titoli, ma anche un'infinità di modi per giocarci. Su console, su PC o anche in streaming da cloud sul vostro telefono o tablet. O sul vostro PC, l'avevo già detto. O la vostra console. Praticamente se avete uno schermo a portata di mano, probabilmente avrete accesso a centinaia di giochi incredibili. Ovviamente potrete anche divertirvi col multigiocatore online, approfittare dei fantastici sconti e dei contenuti di Riot Games. Xbox Game Pass Ultimate è davvero l'esperienza definitiva. Quindi se volete tutto, ovunque e nello stesso momento, questo è l'abbonamento che fa per voi. Un mese di Xbox Game Pass Ultimate costa 17,99€. Non dimenticate di iscrivervi e far suonare la campana per rimanere aggiornati sulle novità di Game Pass. Ciao ciao!